Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come ho detto l'attito vi farò vedere l'after patch del glitch di duplicazione massiva in solo Quindi prima cosa i requisiti li trovate nella descrizione, andatevi a leggere Prima cosa andare nella storia, aspettare che sia notte e quando è più o meno mezzanotte aprite il menu interazione e andate nella modalità regista Fatto ciò questo primo step ragazzi è per duplicare in maniera massiva appunto non andrà rifatto ovviamente Quindi se vi escono messaggi li accettate, una volta nella modalità regista fate avvia modalità regista Vi farà il caricamento ovviamente indifferente che personaggio utilizzate, va benissimo sia PS4 che Xbox Una volta nella modalità regista aprite il menu interazione, andate su ora e mettete notte Una volta che avete messo notte premete triangolo come vedete in basso c'è scritto blocca tempo quindi premiamo blocca tempo Una volta che avremo premuto triangolo una volta per aver bloccato il tempo dovremo, come vedete il tempo sarà bloccato Dovremmo premere opzioni, andare su partita, carica partita e dovremo caricare un qualsiasi salvataggio Se avete l'autosalvataggio è meglio quindi caricate quello Una volta spawnati dovrete semplicemente andare in una sessione sola di inviti Quindi opzioni online, gioca gt online, sessione sola di inviti E così ragazzi avremo il tempo frizzato quando andremo online Come vedete una volta caricato una sessione sarà notte, se non è notte vi spiego cosa fare Allora come vedete una volta spawnato aprendo il telefono sono bloccate le 3.08 Se ragazzi vi esce un altro orario che non sia notte perché a noi ci serve la notte più o meno le 2 di notte Insomma da mezzanotte in poi dovrete semplicemente aspettare in sessione 2 minuti nella vita reale equivalgono ad un'ora Quindi voi aspettate che ne so 4 minuti se sono le 8 e vorrete arrivare alle 10 Aspettate 4 minuti nella sessione e poi a quel punto fate opzioni online, creatore, ve ne andate nel creatore E poi nuovamente opzioni online, gioca gt online, sessione sola di inviti Quando respawnerete noterete che il tempo sarà cambiato ma sarà sempre frizzato Quindi come vedete nel mio caso ci sono stato pochi secondi perché a me andava benissimo come orario le 3.50 di notte Comunque ve lo scriverò anche nei commenti questa parte se non l'avete capita bene il fatto del cambiare orario Come vedete adesso sono le 3.51 e a me va comunque benissimo come orario Comunque più aspettate più passa il tempo Ricordatevi che 2 minuti nella vita reale equivalgono ad un'ora su GTA Quindi fatevi voi il conto su quanto dovete aspettare Quindi fatto ciò per cominciare a duplicare vi ricordo un garage pieno di RH8 con tanti faggio Quante duplicazioni volete fare mi raccomando i faggio tutti nello stesso garage Se ne avete altri rimpiazzatele con altri veicoli Come vedete ho già fatto qualche duplicazione Dovrete prima cosa salire sulla RH8 Una volta nella RH8 dovrete semplicemente uscire Come vedete comunque il tempo sarà sempre frizzato E adesso dovrete semplicemente andare a trovare una prostituta Si trovano ovunque ragazzi a quest'ora Come vedete dovrete semplicemente avvicinarvi suonare con il clacson E adesso il glitch è un po' diverso Perché io vi sconsiglio di utilizzare la posizione vecchia Perché il veicolo si sposta Adesso vedrete il perché Comunque potrete utilizzare insomma ingegnatevi Trovatevi voi la soluzione Quindi dovrete andare qui vicino alla sala giochi E il punto migliore Vicino qui all'Eclipse Tower In alternativa potete utilizzare il posto vecchio del vecchio glitch Dovrete bloccare l'auto qui Dovrete prendere un'arma Come vedete dovrete bloccare le portiere Prendere un'arma e sparare un paio di colpi Quindi una volta che avrete bloccato l'auto E avrete sparato un paio di colpi La prostituta si impanicherà Voi premete triangolo E scenderete A quel punto dovrete prendere un'arma Io vi consiglio una pistola Perché come vedete non rincula l'auto E a quel punto dovrete semplicemente sparare al cofano Finché l'auto non prende fuoco Appena va in fiamme senza farle esplodere Aspettate che si spengano le fiamme Come vedete la posizione è la seguente Quindi adesso dovrete semplicemente aspettare Che le fiamme si spengano Nel mentre toglietevi la polizia Insomma come vi pare Dopo quei 50 secondi Dovrete semplicemente aprire il telefono Chiamare l'assicurazione Morse Mutual Una volta che vi si sono spente le fiamme E dovrete semplicemente richiedere la RH8 Che avete appena tra virgolette distrutto Ovvero questa qui che aveva preso fuoco Una volta che l'avrete richiesta Non succederà nulla Come vedete vi dovrete semplicemente Allontanare non tanto il giusto Quindi quanto basta Per andare su Presidente Motorcycle Club E richiedere un faggio Quindi diventate Presidente Motorcycle Club E richiedete un faggio Una volta che avremo richiesto il faggio Non succederà nulla E a quel punto dovremo andare a prendere L'auto che vogliamo duplicare Potrete averla o nell'entrata di servizio Oppure se volete farlo Io per farlo in maniera ancora più veloce Ce l'ho nella sala giochi Volendo anche nell'Arena War Comunque salite sul veicolo Che volete duplicare E premete il tasto per accelerare Uscirete fuori Una volta fuori Come vedete non succederà nulla Andando nella posizione Insomma in quel virgoletto Ci sarà ancora la RH8 Vi dovrete avvicinare Prendere una pistola E dovrete sparare alla prostituta Quindi la dovrete ammazzare Dovrete fare un headshot Quindi come vedete Una volta che l'ho uccisa La targa della mia auto Che sto duplicando cambierà A quel punto la dovrò semplicemente Mettere nel garage Dove avevo tutti quanti faggio Quindi nel garage iniziale Dove c'era anche la RH8 E come vedete Non mi uscirà il messaggio di sostituzione Se vi esce il messaggio di sostituzione È perché evidentemente Avete sbagliato garage E avevate qualche faggio Di cui non sapevate nulla Quindi mi raccomando ragazzi Per continuare con il glitch Semplicemente salite sull'RH8 E ripetete da capo Spero che questo video vi sia piaciuto Se siete nuovi Iscrivetevi al canale Vi neri glitch E contenuti su GT Online E noi ci vediamo al prossimo video